Ma mori tu! vai 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 dai basta però ai 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 cosa? così fanno i braziliani tutto l'allenamento pieno di questa atmosfera ti prendono di schiena e ti soffocano di vivo sperano per riconoscenza ha perso conoscenza ti portano indietro di nuovo ma sicuramente dovevamo in Brasile ci sono tanti in Russia tante cose però come siamo i più potenti i campioni del mondo sono tra russi sono anche i moldavi però i brasiliani hanno scuola non 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 grazie 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 molto tempo per l'attività per questo si dovete accettare si dovete insegnare si dovete insegnare e poi si dovete lavorare e alla prossima velocità Oss! Ciao! Ecco il nostro parco